Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Nintendo Spucchezze Allora, questo voi penserete che sia il sesto episodio, ma non lo è, della seconda serie di Nintendo Spucchezze Ma non lo è, perché è un video extra sui comandi Quindi è una parte del quinto episodio, come ha giustamente urlato mio fratello che si è sentito Spero, anzi no, non spero che si sia sentito Allora, come potete vedere in casa mia, vabbè ci sono sempre gli stessi del primo video perché è sempre lo stesso giorno Come potete vedere qua, è sempre martedì 10 giugno Quindi, cioè, sono due minuti che ho caricato, appena due minuti che ho fatto quel video Quindi ci sono sempre Daphne, Jekyll, vicino a Daphne e Furia Allora, vediamo un po' a che punto sono i miei cani con i comandi Allora, lei i comandi li sta fino a salta Scusate, avviso di batteria scarica Ma non sono comparsi, quindi non si possono insegnare a lei Spero di fare in fretta perché il tablet mi si sta scaricando Jekyll invece deve imparare questi Terra, dormi e gira E io li facciamo imparare subitissimo Spero di non metterci troppo Purtroppo non avrei il biscottino da darle Siediti Terra 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 Jekyll ha di bello che impara a infrettirsi Questa è il pilario Piantala Pietro Questa è il pilario Era quando ho fatto il video precedente che non la pianta un attimo Questa è il pilario Voi non fateci caso Questa è il pilario È sempre così Questa è il pilario Questa è il pilario Pietro, ma la puoi piantare Questa è il pilario Scusate Ok Terra Noi lo facciamo dire Terra Vabbè sì Chi se ne prega senti Dormi Sei fortunato che l'ha capito Pietro Potete sgridarmi Dormi Complimenti Pietro Sei bravissimo Non date fastidio Potete sgridarmi se volete Ricordo il mio fratello Vabbè Gli ne faccio imparare uno Velocemente a furia Siediti Perché se no Non lo finiamo più Questo video E non è Magari ne farò uno Migliore Sui commenti Ne farò uno Migliore sulle gare Siediti Grande Siediti Complimenti Pietro Ma sei proprio Scusatemi Siediti Scusatemi Crisi di nervi Siediti 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 Sì ma scusa Che ce l'hai fatta Pensi che interessi a qualcuno Siediti 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 Sbrigarmela Anche perché c'è Un coso di Pietro Che fa estremamente Tanto rumore So che in questo video Mi sentirete Incavolata Nera Lei è sempre incavolata Vuoi fare un commento Che metti sul tuo canale Cravolo Pietro Bene Il video Extra dei Comandi Sarebbe finito Magari forse Gliene facciamo imparare Poi ne farò un altro Magari fatto meglio Perché qua Mi sono anche un po' Incavolata Con mio fratello Lei è sempre incavolata Dillo Ah no E' vero non puoi Scusate Era meglio di no E vabbè Scusate La seconda volta Che ripete Che mi incavolò sempre E stai zitto E vabbè Allora Daphne vi saluta Anche Jackal vi saluta E anche Fulia Spero di comprarmi presto Un altro cane Così non vi farò aspettare Tanto E ciao a tutti Stai zitto Pietro Ciao a tutti